Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Spava Late Motor Show. Spero che abbiate visto tutti quanti il video fatto con Edoardo Iannone, Ivan Giussani e Matthew che è uscito questo martedì, ma anche l'uscita che ho fatto con la nuova Speed e che mi ha un po' destabilizzato perché mi è piaciuta tanto, veramente tanto. E quindi in un futuro ipotetico acquisto non saprei cosa scegliere, ma vedremo. Mentre esce questo Spava Late Motor Show, io l'ho stato invitato per il testo ufficiale della Yamaha R7, strada e pista e non vedo l'ora di portarvela qua sul canale. Presto, molto presto, il tempo di editarlo. Intanto godiamoci il Late Motor Show. Sì? Per palo eh? Ok? Noi! Minchia, minchia, si sportelli del minchia. Guardate un attimo lo specchietto, mezzo secondo. Ho perso lo sportello, che ho fatto, che ho fatto? Qua, sulle gingive, qua lo sportello. Capi seria? Guardate gli specchietti prima delle scene. A giustificazione, sempre e comunque c'è da una via. Ma non ci sta mai. Ho fatto una cazzata. Scusa, te ripago. Non c'è stato io. Fa incazzare pure il pulipetto. Guarda che fa incazzare il pulipetto. Questa è la nuova mascotte. Devo spavare a lei. Tu lo mettevo qua. Quando siamo felici, è felice. Quando siamo incazzati, incazzato. Siccome oggi ho lavorato tutto il giorno, incazzato. A seconda del mood. È vero, è vero, è vero. Dobbiamo un attimino dire che la moto stava sorpassando a destra. Sbagliatissimo, sbagliatissimo. Però c'è il trap. Non è che dici, stanno a camminare. Proprio fermi, 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 fermi. Eh, che fai? C'è sta qualcuno che sta in America? C'è sta qualcuno che non si infila? Se stanno tutti fermi. Cerchite di passare come puoi. Ah, che mi è rivenuto a me. No, non mi dici che sta a casca a mo'. Ti è, là ho, assoluto. Nooo. Ma come? Per chi c'ha l'età mia, sta scena? Questa è Nifo Speed Underground 2. Voi ditemi uno che la curva non se la faceva quando arriva via il cannone addosso al guardrail. Intanto non si faccia niente alla macchina. Tutti, tutti. Ma direi la verità. Vero o no? Vero o no? Underground 2, Nifo Speed Underground 2. Bellissimo. Lui dice, oh, eh, stanno a largo, la faccio come Nifo Speed Underground 2. Cazzo, aveva superato il peggio, aveva superato il fango, gli avranno fatto... Mi va accadere all'ultimo. Mannaggia, oh. Non so fare le curve alla faccia a cadere. O scudo è pazzo? Degli hell o me... C'è? Non c'è? C'è? Non c'è? C'è? Non c'è? Proprio una cosa... C'è? Non c'è? Madonna. Doppio! Vabbè, però, porca miseria, oh. Questo è un po' frenato. Ma io, guarda, io spero soltanto che sti due stanno bene. Ma tu ti rendi conto che pigna che hanno preso? Questo si muove tutto a posto. Ok, meno male. Sì. È rosso. Giustamente, ci fermiamo. Bagnato per terra, eh. Da non sottovalutare il bagnato per terra. Ci fermiamo. Verde! Si parte. No! A me mi è successo così. A me l'incidente mi è successo così. Però, semplicemente, la macchina, invece che arriva da qui, arrivava da davanti a sinistra e mi ha preso sulla forcella a sinistra. Tu perdi totalmente la fiducia nell'umanità. Vi giuro, raga. Perdi la fiducia nell'umanità. Cioè, se a me è verde, a quello non è che c'è l'arancione. Quello vuol dire che c'è stato l'arancione, poi il rosso. Poi sono passati cinque secondi, quattro secondi. È verde e posso partire. Tu mi spieghi come minchia fai a arrivare così. Cioè, tu me lo spieghi come fai e come ha fatto quello che mi ha preso a me, quel testa di c***o, la tt. Nel mio caso, si è capito perché. Perché era drogato. Cioè. E tu, tu, dici, tu ogni volta, quel giorno poi, ogni volta che stai al semaforo fai... È verde. Ok. Ok, posso andare. Perché non ti avvidi più di nessuno. Cioè, questa ha vista la macchina all'ultimo, ha frenato con l'anteriore. Si è appoggiata la macchina. Rotola, 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 rotola. Ma questo è il casco? No. Eh sì. E' partito pure il casco. Vivo. Si muove. Miracolato. Oh. Questa è ferma, eh. Oh. Vabbè, sta a pensare ai minifoni. Vabbè. Dai, questa è colpa tua. Eh dai, sta a pensare al brugomela. Normale che te schianti addosso alla macchina. Sì. Oh. Oh, lanciare! Madonna. Madonna, regà. Ma questo è il lanciare più potente che abbia mai visto. Questo ha vinto su tutti i lanciare. Il lancio del dragone nascente. Che poi fin qui era gestibile. Ma da qui ha proprio fatto un'esplosione di potenza. Pam! È tipo il corpo del dragone. Ha, 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 dritto per dritto e poi pam! Questo si rialza. Like a dragon. Hai riuscito tutti? Hai riuscito tutti, eh? Hai visto che roba? Eh, lo faccio una volta solo, eh. Che vi sia di lezione. Lui? Ma, a modo. Regà, ma a modo, hai vista? Regà? Anzi, eh, hanno già rubato. Ma guardate come, dritto per dritto. Tutun. Tututun. Tututun. Pam! Salvatore, hai visto come si fa? Così si fa. Noi cose che fai te. Eh, eh. Che ce vuole? Se scivoliamo, proprio... Questo invece proprio... Pam! Il larsal ti va a paddli. Vabbè. Davanti. Dai, regà, non mi nascondete la moto, però, eh. Dai. Dai. I scherzi sono belli quando durano poco, eh. Dai. Questo, vabbè. Questo lo so perso io, non vi preoccupate. Tirate fuori in sta modo, dai. The scene me rolling. The hating. Eh? Hai visto sì. Stile. The scene me rolling. The hating. Devo tro... Ah, eh. Ah, l'effetto... L'effetto nero. Bravo. Bravo. Basta. Basta. Va... C'è sta quella la macchina. C'è sta quella la macchina così. Ah. Ah. No. C'è, ecco, dove c'è da riconto questo? Questo qua? Stava a far traffico? Questa è la classica cavolata, no? È il motociclista, no? Che fa? Supera la macchina. Ah. Guarda che stradone. È normale che te parta la sciabbarabba, dici? Qui. Tutta la fila a sinistra, incolonnata. Io posso tirar la marcetta? Una. Che vuoi che gli fa? Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Ah, zanzara! Non è che a scappiarla, maledetta. Sei, sei. Quante ce ne stanno dei pacchiere qui? Quanta probabilità c'è che tra uno di questi c'è un coglione? Quanta probabilità c'è? Una cifra? Però non la pensiamo mai così. Tu quando mi dà la stradina ti dici... Vabbè. Io la marcetta gliela la tiro. Ecco il coglione. Ci stava. Fate una media. Su quattro macchine, uno è coglione. Più o meno. A volte dovete ridurre anche a tre. C'hanno pure il bonus scarico. Cioè, ti dici, c'hanno lo scarico rumoroso. Mi sentono. De solito. Non è funzionato. Loro viaggiano. Sanno carichi come muli. Questo l'ha uscito. Cioè, credi, manco io... Manco io che sapevo che stava per succedere qualche cosa. No, vabbè. Questo sta lì, nascosto. Io ero l'albero. A mangiare c'è la merendina. E poi fa? Parto, parto! Guarda il cannone! Questo stava proprio a fare in versione a U. Cioè, non è che dici se hai messo per strada. In versione a U. Ha fatto una collateral. Doppia. Cioè, proprio... Capito che lo essere umano è imperfetto. Però manca essere estate c***o. Eh. Eh, no. Interno. Interno. Guarda interno. Qua, qua. Tu guardi interno. Uuuuh! Sbracchi tutta la moto giù. E buone probabilità di farlo. Tu invece guardi l'alberello. Te lo dico io. Non è andata male. Non è andata male. Non abbiamo avuto impatti. Siamo caduti sul morbido. Verde nel verde. Verde nel verde. Abitato naturale. Dai. Dov'è sta? Uuuuh! Mannaggia miseria. Questo ha guardato. Si è sentita la sirena. Ha guardato dietro. Ha guardato il specchietto. Si è distratto. Ma dà una effezione di secondo. Quanto sarà stato? Un secondo. Un secondo e mezzo. Ah, senza sarà! Eccola! Eccola! Mortacci tua! Uno spavolet motorshow a cercare piatte. Anfame! Ma pizzicato 57 volte. Mo' me zucchi! No! Ma perché? Ma che cosa dovevi... Ma perché? Ma che cosa? Sei fermo incolonnato, no? Ti è permesso scendere dalla macchina soltanto se stai sul raccordo. Perché sul raccordo a mezzogiorno e alle 18, fino alle 20, è possibile scendere dalla macchina e giocare a calcetto. Allora, lì, in quel caso, sul raccordo di Roma, non so se avete mai praticato, puoi scendere dalla macchina e gioco a calcio. Ma qui no! Perché scendi così, con irruenza? Almeno guardami. Osservami un secondo. Guardami quanto sono bello. Tu mi apri così. Capisco il fastidio che posso passare. Ma manca prima la sportella. Anfame, ti è! Questo non doveva succedere. Io voglio sapere questo che... Io voglio sapere questo che gli ha detto. Perché ha aperto lo sportello? Passa, vai, vai. Oh! Oh, questo è grosso! Lascia la moto, lascia la moto! Ma che sta matto? Via, oh! Subito! Subito lasciare la moto! Camiselle, il panico! Incontra la macchina che... Comunque sia, te passa sopra la guardia. Però fermate! Un camion del genere che te sta venendo. Contro, io subito, molla la moto, via! Telare! Via, subito, mollare la moto! Capisco che uno, il primo pensiero è noto, cercate di salvarla. Deve tirarla indietro. Ma andate oltre questo. Se legatelo a schiaccia, se poi arriverà. Voi... Per cui, per quanto può essere difficile, in linea di massima, lasciate sempre e salvatevi. Grazie mille per aver visto questo Spavalite Mondro Show. Iscrivetevi al canale, molto importante. Mettete un bel mi piace. E perché no, attivate anche la campanella, così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica. Noi ci vediamo come sempre al prossimo. E... Ciao! Ciao!